Nell'epoca della conoscenza fatta con un click degli scienziati che si aggiornano con Wikipedia, mi pare interessante ricordare la figura di uno scienziato vero, un uomo, che ha portato nella scienza un nuovo modo di raccogliere informazioni e che ha cambiato completamente la lettura che si è data della natura e dei processi evolutivi. Ecco, studiare, dedicare molto tempo alle proprie conoscenze e aumentare la competenza della collettività. Questo è il ruolo della scienza, anche nell'epoca di Internet.